Ma vogliamo presentare pure lo spettacolo? Lo spettacolo si intitola Gli Annacci e Dintorni Gli Annacci e Dintorni, cioè nel senso si parla di Gli Annacci Si parla di Gli Annacci Si canta Gli Annacci e si parla di Enzo Gli Annacci Però i Dintorni sarebbe... Allora dunque, quando si racconta, diciamo così, di un grande artista Si va innanzitutto a ricercare la genesi in qualche modo Come è nato quell'artista Perché ha scritto quelle cose, cosa c'era dintorno Da cosa è stato influenzato Esatto, esatto E Dintorni consistono esattamente in questo Nell'influenza che Gli Annacci ha avuto delle persone, degli artisti Che lui ha frequentato all'inizio e poi durante tutta la sua carriera Simone Colombari Max Paiella Gli Annacci e Dintorni Vi aspettiamo alla Sala Umberto E quindi dovete venire Di nascosto l'effetto che fa